Ore 17 Melluso linea Walker Quello che fa sempre le stesse cose La polizia ha informato che ci sono almeno tre morti e otto feriti Piano le notizie che arrivano da Stoccolma dove nel pomeriggio intorno alle 15 Un camion ha travolto alcuni pedoni in una via del centro Una delle più frecose A Radio Sportiva, calcio e sport, 24 ore su 24 Pensavo quel trucco di fare la giornata e imparare a sorridere comunque Sconto, ma termina domenica Ho capito, vedo presto termine A passare una solinque perimedia e diversi feriti E' un po' secondo me 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 Sappia E' un po' secondo me Capitante della commissione A 2010 o a 1 E' un po' secondo me Pochi minuti fa la polizia ha avuto l'evacuazione della stazione centrale di Stoccolma Senza fornire ulteriori particolari Per il momento non arrivano ulteriori indicazioni da Stoccolma Allora torniamo da Paolo Pacchioni Poco fa ha parlato il premier svedese Stefan Loften Possiamo ascoltare le sue parole Tutto indica che l'azione compiuta con il camion Che ha travolto la folla nel centro di Stoccolma Sia un attacco terroristico Sia un attacco terroristico Sia un attacco terroristico Sia un attacco terroristico